Musica Dobbiamo dire che in ogni caso sono troppi, anche uno per noi è tanto, perché il danno che fanno nei confronti delle persone anziane a questo tipo di reato è notale. Quindi noi insieme all'ordine dei farmacisti portiamo avanti questa iniziativa per far sì che si riducano sempre di più questi casi e per la tutela non solo fisica ma anche morale delle nostre persone anziane che ci sono sempre vicini. Il consiglio che diamo è quello di chiamare subito le forze di polizia 112 e 113 in qualunque momento. La truffa che viene fatta solitamente è quella di telefonare a casa oppure di fermarlo per strada dicendo che c'è un familiare che ha bisogno e quindi di fornire qualcosa di soldi per poter sopperire alle esigenze del familiare. Quindi il consiglio principale è quello di telefonare subito alle forze di polizia. Poi se è una situazione normale non fa nulla, siamo intervenuti ma a questo ci fa piacere. E nell'immediato cercare di non aprire la porta agli sconosciuti? Sicuramente sì, insomma prima di aprire la porta anche se qualche volta qualcuno si presenta come forza dell'ordine, rappresentante di un istituto, cercare di acquisire il maggior numero di informazioni possibile prima di aprire la porta.